La misericordia è più grande del pregiudizio, ogni incontro con Gesù ci cambia la vita. È la riflessione offerta oggi da Papa Francesco prima della preghiera mariana dell'Angelus. Commentando il Vangelo che presenta l'incontro di Gesù con la donna samaritana, il Pontefice ha chiarito che in queste pagine troviamo lo stimolo a lasciare tutto ciò che apparentemente è importante, ma che perde valore di fronte all'amore di Dio che è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Incontrando il Figlio di Dio, la samaritana compie un'esperienza straordinaria. La sua anima inaridita sperimenta l'acqua viva della misericordia che zampilla per la vita eterna. Così noi, soprattutto in questo tempo di Quaresima, siamo invitati a guardarci dentro, a far emergere i bisogni spirituali più veri. Siamo chiamati a riscoprire l'importanza e il senso della nostra vita cristiana, aggiunto Papa Francesco, e a testimoniare ai nostri fratelli la gioia dell'incontro con Gesù e le meraviglie che il suo amore compie nella nostra esistenza. Gesù la pone davanti alla sua situazione.